Sul bando periferie il premier Giuseppe Conti ha incontrato i rappresentanti del Lanci e i sindaci, raggiunto un primo risultato dopo il blocco delle risorse destinate ai comuni, confermati i progetti in cantiere. Bando periferie salvi i progetti in cantiere, confermate le convenzioni, arriva a dirlo l'onorevole Antonio Federico del Movimento 5 Stelle. Il premier Giuseppe Conti ha infatti incontrato i rappresentanti del Lanci e i sindaci per trovare una soluzione alla questione. Previsto l'inserimento nel primo decreto utile successivo alla conversione del Mille Proroghe di una norma che di fatto dia ai comuni la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata, quelli esecutivi potranno così proseguire grazie a risorse che saranno elargite sulla base del reale stato dei lavori. I comuni, pertanto, non utilizzeranno gli avanzi di amministrazione ma dovranno indicare le proprie priorità. Ci sembra, ha sottolineato Federico, un primo importante risultato visto che ha ricevuto il placet dei rappresentanti dei comuni italiani. Aspetti fondamentali questi per mettere le amministrazioni, comprese quelle di Campobasso e di Isernia, che dal bando periferia attendevano oltre 28 milioni di euro, nelle condizioni di garantire ai cittadini servizi e investimenti.